hey ok 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 e sono samuel e mangio riso e con il pollo e con il riso con il pollo con il pollo e con il riso e sono samuel e mangio riso con il pollo e con il E con ambra Ehi, ehi, ehi E sono Samuel e mangio riso E con il pollo E con ambra E sono Samuel e mangio riso E con il pollo E con il curry Yeah! Oh, 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 è piaciuto, al pubblico è piaciuto Allora, Samuel Sì, sì, dimmi pure Io Io mi ci ritrovo Ma dove, nel riso col pollo o in merda? No, nell'essere qui per rimorchiare ambra Però non vorrei farti uno sgambetto Dicendoti che Questo è un plagio del pioniere del genere in Italia Questo è un po' un plagio di pasta col tonno Di bello figo Infatti io mangio riso col pollo Apprezzo tutto Però quando si toccano le divinità A me è piaciuto il tuo essere criptico e enigmatico Nel comunicare questo messaggio Fortunatamente c'era la tua maglietta che mi ha fatto capire che cosa mangiassi insieme al riso Perché non mi era così chiaro Grazie Abbiamo gli stessi gusti soprattutto a livello di cucina Non so come tu cucini il riso Molto molto bene Ci vuoi venire un giorno magari Basmati Ehm no, jasmine Ah 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 Il riso jasmine ma esiste? Sì Oh mio dio raga Senti secondo me il commento che stai aspettando di più è quello di ambra Quindi io sono solo una perdita di tempo e lascio la parola ad ambra Sì puoi venire ambra io ti aspetta Si vuoi andare Ciao Ambra Ti trovo bene Ho una cosa da dire Allora se non avessi fatto 12 mesi di psicoterapia Visto l'ultimo ex tu saresti il prossimo sicuramente Ma oggi Grazie a te caro riso col pollo Voglio dire alla mia psicoterapeuta che sono guarita No Io sono già posto grazie mille a tutti Grazie Ma cioè non è perché sono geloso No no figurati Samuel Non è inutile che ci prendiamo in giro Per me no Però Chi se ne frega Cioè fai le tue canzoni con tutto il tuo menu E spingile su Instagram, su TikTok Sarò un tuo fan Guarda dico si è reso col pollo No il soy No Ma no Mirko È tentato Cioè non lo sa Mirko Sì scusa Adesso vedrai che esce con te È bello perché Lo si fa per conquistare le ragazze In questo comunque Andiamo anche d'accordo Però per me no Eh basta Samuel non sei passato Io ti do un sì per la simpatia Ciao Ciao Grazie mille a tutti Buona serata Ciao Ciao